e ciao a tutti ragazzi e ben tornati sul mio canale oggi ragazzi siamo qui in un nuovo episodio chiamiamolo nei nostri unboxing vintage anche se questo un po meno vintage degli altri visti finora e siamo qui ragazzi per l'appunto con questo unboxing della collector edition dell'edizione di south park scontri di retti se non ricordo male il titolo e ovviamente in inglese proprio dovrebbe essere scontri diretti questo se non ricordo male e ragazzi che dire procediamo subito con la visione dello scatolo di questo scatolino abbastanza piccolino ma molto carino alla fine per il contenuto e anche molto bello era il gioco giochi di south park hanno fatto molto carini anche per l'idea che hanno avuto e tutto sono piaciuti veramente tanto speriamo in seguito in un terzo capitolo che prima o poi secondo me arriverà e quindi ragazzi qui di fronte possiamo vedere già la statua plastica protettiva di lato alcuni dei protagonisti dei personaggi che si possono utilizzare qua il retro con il nostro contenuto dove c'è la scatola le cartoline con la busta che le contiene e confezione del gioco più dlc e gioco vecchio bastone tipo della verità non lo del genere come gioco bonus che c'era quindi avevi due giochi in uno in questa collector e qua gli altri personaggi per l'appunto dietro sotto non c'è nulla e sopra abbiamo il nostro titolo ragazzi quindi togliamo la copertura il cartoncino il lato già ve l'ho fatto vedere e qua al retro dove fa vedere semplicemente la città andiamo subito quindi ad aprire lo scatolone magico il nostro boxone e vediamo subito il contenuto ragazzi abbiamo la nostra busta abbiamo questi codici digitali che in realtà già riscattati e tutto come vedete vestiti e il nostro amico asciugamano qua la nostra busta busta bustina con disegnati i nostri personaggi e qua da aprire così per poterla spedire e all'interno dovremmo avere le cartoline dei personaggi perché immagino quante persone spediranno queste cartoline qua un po i nostri supereroi alla fine sono solo tre cartoline con il parrocione capitano diabete e professore caos come vedete cartoline simpatiche tutte dove dietro si può scrivere ma ripeto vorrei sapere chi è il pazzo che invia cartoline di questo tipo sa che questo unboxing ragazzi sarà abbastanza veloce nonostante un bel gioco e comunque anche una buona collector che non costava neanche tantissimo non sono tantissimi contenuti perché la parte principale era la statua fatte quelle cartoline li andiamo a togliere il nostro cartoncino ennesimo protettivo e andiamo a prendere la nostra statuona dalla plastica oltretutto c'era anche la collector se non ricordo male dove lui era sul triciclo telecomandato ma costava uno sproposito andiamo a togliere l'ennesima plasticotta e qua ragazzi abbiamo la nostra statuina di del parrocione sotto ci sarà scritto sempre male in china e stavolta no solo ubi collectibles e comedy partner stanno che non c'è scritto un made in china da qualche parte me lo aspettavo e invece no statuina abbastanza vuota dentro mi sembra anche fosse un po dedicata per la parte della coda però molto carina come vedete anche abbastanza alta quasi quanto una mano soprattutto paffuta per il personaggio che ci sta ripeto forse alcune parti mi sembrano un po delicatine le mani si muovono non ha tantissimo senso forse solo la coda mi sembra un po delicata che mi sembra che si possa un po amore non c'è scritto dove è stata fatta stranissima come cosa probabilmente dentro il mantello non è anche dentro il mantello non c'è scritto lo vorranno tenere segreto ma sicuramente sarà stato fatto in cina come tutte queste cose che dire ragazzi penso di aver concluso perché vi ho mostrato tutto quindi come dico al solito e come la mia solita routine se il video vi è piaciuto vi ricordo lasciare un bel mi piace qua sotto a questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto condividere il video con i vostri amici con le altre persone così anche loro vedranno questa collector e ci scriveranno anche loro leggerà la descrizione con tutti i link utili e suggerimenti tutto quello che vi lascio e noi ragazzi ci vediamo alla prossima con un altro video io vi saluto e ciao ciao